Finalmente qualcosa si muove. Dopo le numerose lamentere dei potentini sulle condizioni di estremo degrado di importanti arterie del centro storico e della pavimentazione degli antichi vicoli, l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire. È stato infatti approvato il progetto preliminare per i lavori di riqualificazione di vie, piazze e vicoli del centro storico per un finanziamento complessivo di 3 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento è stato licenziato nel corso dell'ultima seduta della giunta durante la quale sono state discusse e approvate 19 delibere, molte delle quali riguardanti i progetti preliminari di lavori che si svolgeranno nei prossimi mesi nel capoluogo. Si tratta di un lavoro importante, ha fatto sapere il sindaco Dario De Luca, che sarà appaltato entro l'anno così che nel 2016 potranno iniziare gli interventi e si potrà cominciare a vedere vivere un centro storico rinnovato, nuovamente accogliente e pronto a ricandidarsi quale salotto buono della città, luogo di incontro e socializzazione per i potentini e per quanti trascorrono del tempo nel capoluogo lucano.